Io capisco tutto, capisco le passioni, ma il mascara messo così, ma cazzo, cioè con quella bocca aperta, cosa sta aspettando, un hot dog, una banana, la trotta di Damante, ma perché, perché? Allora un sacco di persone continuano a dirmi all'altra trotta di Damante che ti piacerebbe, ragazze, ragazze, se Andrea Damante mi molla il suo trottone, io lo prendo tutto, tutto! Mai, dico mai, ironizzare sulla Delelli, se non si può, i suoi fan sono incattiviti, vi troveranno, vi giudicheranno, oltre vi squarteranno, nascondetemi, nascondetemi! Le fan della Delelli se mi continuano ad insultare, sti cazzi, sti cazzi, io cagherò, mangerò, vivrò, vivrò lo stesso, lo stesso, io vivrò, baci stellari! Ah, cazzo! Ragazzi, si scherza, cioè voglio dire, lo faccio non perché sono invidioso, ma perché mi fa ridere, cioè, boh, mi diverto, la trovo una preda facile, bon, ti faccio due risate, ma non è che la sto insultando, ragazzi, cioè, il mascara, ragazzi, dai, comunque veramente sto scherzando, ok, cioè, sto ridendo, se fossi invidioso non stare qui a parlare di lei e darle visibilità, capito? Mi immagino già magari un giorno, best friend, io e lei, mano nella mano, in un parco, corre, ma vabbè ragazzi, mi avete migliorato la domenica, non sapevo cosa fare oggi, perché è troppo caldo, quindi, quando stavo in casa, ho trovato, c'è il passatempo, perfetto, cioè, io vi amo, vi amo. Poi c'è, capito, sono pure quelle che scrivono, cioè, si impegnano proprio, no, perché tu, perché qui, perché là, mamma mia, cioè, per me voi siete solamente dei cerchietti con un nickname, stop. Comunque voi difendete pure, a me proprio, mi entra, mi esce, poi loro manco vi cagano e voi li difendete. Morto. Morto!